Lazio-Fiorentina si conclude con una vittoria da parte della Lazio sulla Fiorentina vice infatti per due reti a 1 la Lazio oggi brilla nel ben impaginato mondo calcistico fa due bei gol contro la Fiorentina a segnare vi ricordo che è stato Caicedo al primo tempo al quinto minuto di gioco e Ciro Immobile al secondo tempo precisamente al 75esimo minuto di gioco in quanto riguarda invece la Fiorentina a segnare una sua rete un solo gol è stato Gusan Balachowicz all'88esimo minuto di gioco ovviamente nel secondo tempo è una partita piacevole quella che si vede Lazio veramente propone un bel gioco capace di farsi appressare bene arrivando a vincere la partita in questione di oggi 6 gennaio 2021 partita di Italia ovviamente la Lazio gioca in casa infatti è la Fiorentina non Fiorentina-Lazio quindi all'Olimpico di Roma complimenti dunque alla Fiorentina-Lazio e alla Lazio anche se sono normalista comunque ha giocato bene secondo la mia opinione un saluto caro da Leandro, narratore italiano iscrivetevi al canale di ciò grazie a tutti